vieni con noi vuoi parlare italiano vieni con noi l'accademia d'italiano di buenos aires ti porta in un viaggio fantastico per la lingua e la cultura italiane se vuoi parlare italiano se ti piace la cultura l'arte la musica la cucina e tutto il vaccino culturale dei nostri antenati vieni con noi la lingua italiana è la lingua madre della civiltà occidentale la lingua di michelangelo di raffaello di caravaggio di bernini di da vinci di verdi di dante e adesso anche del nostro papa francesco siamo tutti orgogliosi del nostro papa francesco non è vero parlare italiano è il nostro obiettivo principale l'italiano è un idioma musicale la nostra meta è non solo sapere la grammatica della lingua ma anche parlare l'italiano con la musicalità degli italiani vieni a studiare l'italiano in modo creativo e divertente condividi con altri il piacere della lingua italiana vieni alla nostra sede a pochi passi dal congresso nazionale nel cuore di buono aires vieni con noi